La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassie, Lulù, ha generato un certo malumore. Anche perché non è mai venuta alla luce l'effettiva verità su quanto realmente accaduto, cosa ha portato il giovane nuotatore a prendere la decisione di chiudere la sua storia d'amore con Lulù. A svelare i presunti retroscena sull'addio della coppia nata nella casa del grande fratello VIP6 è il profilo Instagram The People TV. Sia Manuel che Lulù hanno parlato della loro rottura anche sotto le luci dei riflettori. Visto che si sono appunto conosciuti con le telecamere puntate contro 24 ore su 24. Nonostante ciò, entrambi non sono riusciti a convincere gran parte del pubblico su ciò che hanno raccontato. Qualche settimana fa, a dire la sua ci ha pensato anche Alfonso Signorini, il quale però non ha svelato dettagli particolari. Dopo essersi giurati amore eterno nella casa di Cinecittà, parlando addirittura di matrimonio e figli, Manuel e Lulù improvvisamente si sono separati. A dare l'annuncio ufficiale ci ha pensato pubblicamente il giovane Bortuzzo, il quale però ha preferito non rivelare chissà che. Ora questa nuova indiscrezione svela qualche dettaglio che potrebbe fare finalmente chiarezza. Perché Manuel Bortuzzo e Lulù si sono lasciati? Lui ha sempre affermato che i due stili di vita non combaciavano fuori dalla casa più spiata d'Italia. Al contrario, lei si è mostrata fortemente dispiaciuta e ha lanciato accuse contro Franco, il padre di Manuel, per la sua presunta invadenza. A questo punto, bisogna prima fare un passo indietro a cosa è successo qualche mese all'inizio. Nella casa, dinnanzi a una Lulù piangente e alla ricerca d'amore e di attenzioni da parte di Bortuzzo. Il nuotatore aveva fatto muro per tre settimane. Poi, una sera, durante una nomination, Manuel si è accorto, mentre spiegava il suo «rifluito» che il pubblico mugugnava e quando ha sentito gli applausi scroscianti per Lulù. Forse ha capito che quell'incrocio lì. Quell'unione. Piaceva al pubblico a casa. Supposizioni. Penserete voi. No. Informazioni raccolte attraverso le testimonianze. Sembra. Dunque. Che Manuel si sia convinto di lasciarsi andare con la giovane Selassie dopo aver notato il consenso del pubblico. Se ricordate bene. La storia iniziata in 24 ore esatte. Riporta questa scottante indiscrette. Fuori dalla casa. Però. Papà Bortuzzo si mostrava contrario a questa relazione. Ed ecco che una volta concluso il GF VIP 6. Spuntano i primi rumors sul presunto distacco tra Lulù e il suo. La storia iniziata in 24 ore. La storia iniziata in 24 ore. La storia iniziata in 24 ore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.